La Regione non ha competenza sulla localizzazione dell'impianto di compostaggio. La Regione è chiamata solamente a dare un parere, è chiamata alla conferenza di servizi per dare un parere sugli aspetti tecnici e dare l'autorizzazione ambientale. Ma è molto curioso che il Consiglio regionale approvi all'unanimità, quindi centrodestra e centrosinistra, dal PD a Forza Italia, si ritrovano uniti ancora una volta come era già successo negli anni dell'emergenza in cui gestivano insieme l'emergenza di fiuti con i danni prodotti all'ambiente e i miliardi di euro sperperati dell'aeropubblico e oggi si ritrovano contro gli impianti di compostaggio. La Regione Campania aveva e dà la competenza realizzare impiantistiche in Regione Campania e sia le giunte precedenti sia la giunta Caldoro in cinque anni non se ne sono mai occupati. Se ne occupano oggi a ridosso della campagna elettorale per fare un po' di demagogia, di cavalcare una preoccupazione da parte dei cittadini ai quali noi rassicuriamo che l'impianto e la scelta dell'impianto di compostaggio a Scampia va nella direzione di riqualificare quell'area, di fare un polo di eccellenza ambientale che dà delle occupazioni di lavoro e che consente di riprendere, di riqualificare l'intera area attorno all'isola ecologica di Scampia. Di impianti di umido la Regione Campania ne ha bisogno almeno di una decina se non di più. Ce n'è solo uno a Salerno e Napoli non può continuare a spendere 140 euro a tonnellate per andare nel nord del nostro paese. Oltretutto per un impianto che come sanno tutti gli ambientalisti è un impianto che non inquina, che non ha delle emissioni, che non c'è combustione. Si recupera solamente il gas, non puzza, diciamolo, perché si tratta di un digestore anaerobico, quindi il processo avviene in assenza di ossigeno, quindi in assenza di ossigeno la puzza all'esterno dell'impianto non esce e questa è un'altra garanzia. È a distanza adeguata dalle abitazioni dei cittadini, siamo oltre 200 metri, quindi insomma venerdì mattina saremo al Consiglio di Municipalità a Scampia anche per parlare direttamente con i cittadini e fargli comprendere esattamente quali sono i termini di questo progetto. Scampia è scelta nell'ottica appunto della riqualificazione ambientale, è una delle aree insieme alla zona orientale di Napoli dove abbiamo previsto il secondo impianto per il trattamento della frazione umida e abbiamo detto no all'inceneritore e alle discariche perché questa nostra posizione che è condivisa dalla stragrande maggioranza dei cittadini napoletani e campani sia forte ed eviti che possa ritornare di nuovo allo spettro dell'incenerimento delle discariche come la di Chiaiano, bisogna fare gli impianti intermedi e gli impianti per trattare l'umido. Quindi noi su questa strada andiamo avanti convinti che la popolazione nel momento in cui capirà esattamente la portata di questo impianto, la dimensione molto piccola, a bassissimo impatto ambientale, con una serie di opere di riqualificazione che saranno precedenti alla realizzazione e all'apertura dell'impianto di compostaggio, capiranno che questa è una scelta che va a riqualificare, a migliorare la qualità della vita e non a peggiorarla, come dicono in modo un po' anche demagogico e anche cialtronesco i consiglieri regionali oggi. Grazie per la visione! Grazie! 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 Grazie!